Ho dovuto lasciare andare un attimino, qualche secondo, perché chi arriva con me lo sa che c'è stata tanta amarezza ragazzi, non prendiamoci in giro, un'amarezza del genere non la puoi spiegare, non la puoi descrivere ragazzi, cioè è inutile. Questa partita la perde al 93, e la cosa più brutta è che prima devi incassarti con tutti, con tutti, giocatori, staff e tutto il resto, e poi devi dire è giusto così, e devi dire che è giusto così. Perché ragazzi, adesso io vi dico che ci sono troppe cose che non sono logiche, mi dispiace ma troppe cose non sono logiche. Ma perché? Cioè dalle scelte di formazione a l'ennesima prova che ti lascia stranito, perché se vogliamo buttarla sempre sul discorso dei giocatori scarsi, ragazzi buttiamola allora ancora sul discorso dei giocatori scarsi. Però questi, in dieci giorni che hanno cambiato la guida tecnica, sono più organizzati di noi che tre anni che lavoriamo con lo stesso allenatore. Non è un discorso di giocare bene, giocare male. Ragazzi, organizzazione. Oh, tre anni contro dieci giorni? Cioè vogliamo, dopo parliamo delle qualità tecniche ragazzi, dopo parliamo delle qualità tecniche, però a me non sembra che la Lazio abbia una squadra di fenomeni, sono al nono posto, ottavo. Cioè, se tu neanche l'ABC lo sai fare e non sei in grado di passare neanche l'ABC, ma dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Cioè io rimango incredulo che in telecronaca debba sentire è Sekulov, che non va a chiudere. Ragazzi, è un ragazzo che fa l'esordio oggi con la Juventus, ha mai giocato in Serie A, viene messo esterno nel 5-4-1, 4-5-1, quello che è, è un giocatore offensivo. Gli stai chiedendo di andare a fare la diagonale. Vabbè, oggi abbiamo perso per Sekulov, a Napoli abbiamo perso per Nonge, però tutte le volte poi vai a vedere le partite, e queste partite qua ci sono quegli altri che a volte anche con meno, anche con meno fanno di più. Cioè, la cosa bella da dire oggi è meno uno. È meno uno. Meno uno. Meno una partita. Ne mancano otto. 3 per 8, 24. L'Atalanta ha vinto, eh? Così, per informazione, aveva avuto lì. Che qualcuno si è... se l'è presa che io abbia alzato la voce con Allegri allo stadium contro il Genoa, dicendo che il Bologna aveva vinto. Eh, vabbè, qualcuno se la sarà presa. Non mi pare di aver mancato di rispetto a nessuno, di aver offeso nessuno. Ragazzi, qui la situazione è grave, eh? Ve lo dice uno che vi diceva, ma sì, tranquilli, che comunque in Champions ci arriviamo. Ecco, adesso diventa veramente tosta. E stamattina mi dicevo, oh sì, la Coppa Italia. È la Coppa Italia chi se ne frega. Cioè, ve lo dico, proprio la Coppa Italia chi se ne frega di martedì. Quindi, preferisco arrivare in Champions, perché abbiamo bisogno di quei soldi lì. E qua bisogna fare i complimenti a Tudor, eh? Cioè, qui bisogna mettersi qua e fare i complimenti a Tudor. Perché questo ha preso, in una settimana, di pausa nazionale, una squadra che era distrutta, era veramente a terra, che stava andando male, con un po' di giocatori via, un po' di giocatori che rientrano, un po' di giocatori... Era messa lì. Poi, non la vinceva, faceva 0-0. Era da fare i complimenti lo stesso. Era da fare i complimenti lo stesso, perché l'organizzazione che ha dato era meravigliosa. Io, ragazzi, cioè, a me poi dispiace. De sceglio titolare, cosa mi rappresenta? Davvero, cosa mi rappresenta se non... Quasi un dispetto nei confronti di un ragazzo di oltre 30 anni che rientra da un anno di fermo per un crociato. Titolare a Roma contro una squadra che andrà ai 2000 a forte trazione anteriore. Cioè, dopo parliamo di tutto quello che vogliamo, veramente, parliamo di tutto quello che vogliamo. Ma se il calciatore va in campo e non ha mai idea di cosa deve fare, e le scelte sono scelte che dici... Boh, oggi si parla di 4-3-3. Ragazzi, a me, boh, francamente mi è sembrata la stessa roba e non è neanche una questione di modulo. Cioè, non è nemmeno una questione di modulo. Quanto più di quanti giocatori offensivi metti a questo punto. Cioè, non è una questione di modulo. Perché tante volte abbiamo visto che Gatti faceva la roba che faceva Danilo, che si allargava a destra quando impostava, faceva il terzino con Costice un po' più basso che era quello che faceva di Sciglio. Cioè, cos'è cambiato rispetto al solito? Tanto Chiesa comunque si allargava, che rimaneva lì? Io, ragazzi, non ho... non lo so nemmeno... Cioè, guardate, non lo so nemmeno... Non ho nemmeno idea domani di fare le pagelle. Che volutazioni dare? Perché io non... Boh, chi è il migliore in campo di oggi? A me viene da dire Rugani, così. Che salva quel gol di Luis Alberto, anche... Cioè, per me Rugani oggi è il migliore in campo dell'Aventus, così. A caldo. La dico a caldo. Per me oggi Rugani è il migliore in campo dell'Aventus. Che salva quella roba lì e... Boh. Boh. Cioè, sinceramente non... Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so perché, ragazzi, la situazione è troppo dura. Cioè, nove partite hai fatto una vittoria. Ma cioè... Ma perché... Cioè, ma come facciamo a commentare? Nove partite hai fatto una vittoria. Come facciamo a commentare? Nove partite hai fatto una vittoria. All'ultimo secondo in casa col Frosinone che è penultimo in classifica. Io non ho idea. Non ho idea di come si possa commentare ulteriormente sta roba. Poi, il gol di Marusic all'ultimo. Proprio la ciliegina sulla torta. Proprio la ciliegina sulla torta. Oggi potevi fare anche 0-0. Guardate, non mi cambiava nemmeno niente. Un punto. Sì, era comodo perché era comodo. Però, ragazzi, cosa ti lascia sta roba? Finisce sta partita. Cosa ti lascia sta roba? Quali sono le emozioni che hai dentro? Cosa... Cioè, oggi devi essere... Cioè, un tifoso da Juventus. Oggi sei felice per... Punto di domanda. Domanda delle domande. Oggi... Te sei un tifoso da Juventus. Punto di domanda. Sei felice per cosa? Cioè... Io sono... Demolito. 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 Cioè, anche oggi sei riuscito a far ridere. Ecco, sei contento che sia finita la partita? Sei contento che sia finita la partita? Però io vi faccio... Veramente, vi dico una roba. Questa ve la dico col cuore. Cioè, non facciamo passare il messaggio che la partita si è persa perché Sekulov non è andato a coprire. Perché questo è esattamente quello che non serve alla Juventus in questo momento. Se facciamo passare il messaggio che... Eh, cavolo, lo perdi perché Sekulov non mi fa fare quella diagonale lì. Allora mi dispiace, non abbiamo capito niente. Mi dispiace. Mi dispiace, non abbiamo capito niente. Di niente, di niente. Perché questa squadra non è organizzata. Stop. Non è organizzata. Non... Non vince. Non fa gol. Ne prende troppi. Gioca male. Non è organizzata. Non c'è organizzazione. Non si sa mai che cosa fare col pallone. Non si sa mai, 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 mai cosa fare con il pallone. E questa è la cosa che dopo tre anni mi lascia quantomeno basito. Va bene il termine basito? Per non dire altro. Ciao ragazzi. Forza Juventus. Grazie.